Oggi parleremo del coppo di testa difensivo. Il coppo di testa difensivo è un gesto tecnico per evitare agli attaccanti avversari di fare gol e di creare opportunità sotto la porta. Il nostro compito principale è quello di limitare ogni possibilità di giocata che ha l'attaccante avversario, di anticiparlo o di mettersi in una posizione tale da non creare pericoli verso la nostra porta. Le situazioni che si creano su un coppo di testa difensivo sono soprattutto le palle inattive, i cross laterali e i lanci in profondità per gli attaccanti. Quando si creano situazioni sul cross oppure sulla profondità per gli attaccanti, il nostro obiettivo principale è quello di guardare palla ma anche l'avversario. Un altro aspetto che per noi difensori è molto importante è quello della posizione. Il pallone di solito viene respinto sempre in una zona laterale, quindi dove si creano meno possibilità per gli avversari per fare gol. Quando arriva in cross è preferibile colpilla soprattutto con la fronte, ma anche utilizzare qualsiasi parte della testa perché dipende dalla posizione in cui ti trovi. Il consiglio che voglio dare a voi ragazzi è che per fare difensore, soprattutto quando si va a colpire la palla di testa, di essere molto determinati.